Eggi di difesa personale con il maestro, il maestro, il palazzo in Porto Genova, Davide Siste, grande maestro. Davide Siste, grande organizzatore di questa merda, numero uno. Grazie Nico per la tua presenza, numero uno. Max oggi mi ha preso abbastanza tante, numero uno, tanto il numero. Un po' da tutta Italia, il tuo grande istruttore. Poi arriviamo al grande maestro. No, no adesso, lo sai perché? Fallo, fallo, fallo. Si, se vado piano, c'è boom, però se vado piano, c'è boom. Grande amico. Domani andiamo a fare un giro, domani, domani andiamo a fare un giro, sia dove lo andiamo.